Si sta tenendo al maschio angioino la sessione nazionale del Model European Parliament Italiano, un progetto collegato ad una vasta rete europea di strutture associative e di scuole secondarie di secondo grado, allo scopo di promuovere a livello nazionale ed internazionale conferenze in cui vengono simulati i lavori del Parlamento europeo. Gli studenti assumono il ruolo di europarlamentari e svolgono diverse attività tipiche dell'organismo europeo, dagli accordi alla partecipazione al dibattito, alla redazione e votazione di proposte di legge attraverso le commissioni. Con il sindaco c'è un grandissimo lavoro teso a rendere le ragazze e ragazzi del nostro territorio, ma non solo, perché oggi vengono da tutta Italia, protagonisti della vita democratica dei territori, non con le parole ma con i fatti, fatti concreti e processi di consapevolezza, di fortificazione delle competenze e soprattutto di buona politica. È una simulazione quindi che guarda lontano, guarda il Parlamento europeo, ma nella vita delle ragazze e dei ragazzi vuol dire occuparsi del bene comune, occuparsi del proprio quartiere, della propria città ed anche interagire con le istituzioni per migliorarle con spirito critico, libero e soprattutto non stando in panchina ma stando in prima linea per la propria città.